Io sono Davide Fraccaro, sono il coordinatore della commissione impianti e certificazione e seguo questa commissione che è composta attualmente di otto membri e che ha lo scopo di lavorare sulla parte impiantistica. Ci siamo dati un fil rouge per portare avanti una serie di temi nei quattro anni che seguirò come coordinatore. Questo fil rouge è legato all'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, quindi il passaggio graduale del riscaldamento dal gas all'energia elettrica. Questo tema porta dietro di sé una serie di contenuti legati ovviamente alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico che sono doverosi e che cerchiamo di trattare sia dentro la commissione sia all'esterno organizzando degli incontri pubblici. In particolare questi incontri come sono stati sviluppati hanno visto come presenza il CNR e in particolare uno dei più belli incontri a cui ho partecipato e che dovrebbe prevedere in un prossimo futuro la presenza di un professore universitario di Bologna per parlare dei sistemi di accumulo. Altri temi trattati sono quelli della comunità energetica che in questo momento è un tema molto dibattuto anche a livello nazionale. Il 24 gennaio scorso è uscito il nuovo decreto di attuazione e quindi cercheremo anche in questo caso di portare a disposizione come normativa, come conoscenza degli ingegneri di questo ordine.